ciao buon pomeriggio a tutti siamo qua per la seconda tappa del giro e jacopo oggi è andata nota bene pianura però insomma è stata comunque impegnativa nota bene pianura abbiamo fatto comunque fatica per il via del vento e di tutte le varie problematiche però l'importante ce la siamo goduta e speriamo che sia così per tutto il resto del del giro abbiamo trovato davvero comunque anche una bella giornata di sole poi una bella hospitality qua all'arrivo abbiamo visto l'arrivo della corsa dei professionisti e quindi io sono davvero sono davvero contento il giro è è partito nel migliore dei modi e andrà andrà solo in crescendo ne sono convinto continuate a seguirci e ci sentiamo i prossimi giorni grazie davvero ciao